Tesoro, guarda che bella questa hamaca che ci hanno regalato. Guarda che bella. Prima quella che avevano era pericolosa, perché aveva le corde, una sera uno si era impigliato nella corda. Ce ne sono tante su Amazon, ma per ora non possiamo comprarle, perché abbiamo pochi soldi in cassa e quindi aspettiamo che qualcuno dalla lista dei desideri ce le regali. Così poi ne mettiamo tante sparse e verrà tutto carino, colorato. Ora devo tagliare questa corda che ho legato su. Grazie mille. Grazie mille.